Il stadio che conosci, in particolare ovviamente per te e per la nazionale, ma tutto sommato anche, crediamo, per Pà. Sì, ritorno molto molto volentieri qua, anche perché sono stato poco, un anno, ma sono stato molto molto bene, poi è nata mia figlia, quindi la ricordo con piacere. Sì, è un test importante, un'amichevole bella da giocare, quindi... Amichevole solo nel titolo, ha detto Di Sciano. Infatti, non mi credo soltanto nel titolo, perché è una partita vera e deve essere così, quindi fa piacere giocarla. Ci vuole continuità, magari credere nei propri mezzi, ripeto, la continuità è giusta, lavorare sempre, non mollare mai, quindi questo magari, queste piccolezze.